Questo servizio è offerto da la Matera Arredamenti e mobili di qualità, consulenza ed emozioni. Progettazione, realizzazione su misura, assistenza tecnica, alta professionalità nei servizi. Matera Arredamenti e in via Selva San Vito 23, alla terza. Siamo alla giornata conclusiva della festa Dumuna Chicchia, che termina con la commedia in Bernatolo Ginosino, tratto da un racconto di Stefano Giove e sceneggiato da Dele Carrera. Ricchezza e felicità, la Carte Dumuna Chicchia, pubblico delle grandi occasioni, piazza 4 Novembre e piazza Marconi, gremitissime in ogni angolo e in ogni dono. Si conclude con questo spettacolo teatrale, la festa Dumuna Chicchia. Devo semplicemente dire che siamo strafelici per come la gente ha seguito questo evento, per quanto è stata grande la partecipazione popolare, per come ci sentiamo ripagati di tanti sacrifici, tanto impegno, tanto lavoro. Oramai parlare di migliaia di persone che ci hanno seguito a cominciare dal mese di giugno, quando abbiamo realizzato il primo evento, aspettando una chicchia fino a questa sera, credo sia una grande soddisfazione per tutti noi soci Arci, perché il merito non è di una sola persona, quando si vince si vince insieme e noi dell'Arci siamo una grande squadra. Certo, possiamo dire che abbiamo anche dei riferimenti importanti come il mondo dell'informazione, tutti i giornali hanno parlato della nostra festa, tutte le emittenti hanno parlato di noi e tra queste si è distinta questa emittente. Io ringrazio Maria per la bravura che sta dimostrando, ringrazio Massimiliano, ringrazio Netuno TV per quello che hanno saputo dare in termini di informazione a questa comunità e noi sicuramente siamo orgogliosi di far parte di questa terra che ha queste grandi ricchezze e queste grandi potenzialità. Sono qui a Ginosa per la serata del finale del Monachitio. Sono stato invitato in quanto imprenditore e collaboratore con l'Arci Pond, che facciamo alcune cose insieme. Soprattutto loro hanno dato l'input a un percorso formativo che mi stanno dando una mano, insieme alla locomotiva. E quindi loro sono stati promotori, abbiamo accettato insieme questa sfida e insieme ad altre tante sfide. Ho visto che la serata è andata bene, sta andando bene, anche quella di ieri sera, nonostante la sfida con la Farnetta di Castellaneta, è una battaglia che Ginosa ha vinto. Concludendo, volevo sottolineare che Nettuno TV ce l'abbiamo solo noi, veramente grandi. Saluto dalla macelleria calabrese, saluto gli amici di Nettuno TV. Dal ristorante a Dichemura un saluto a Nettuno! Saluto gli amici di Nettuno TV. Dalla macelleria Vite Lucia, un saluto a Nettuno TV. Nettuno, ce l'abbiamo solo noi! Nettuno, ce l'abbiamo solo noi! Nettuno, ce l'abbiamo solo noi! Nettuno TV ce l'abbiamo solo noi! Nettuno, ce l'abbiamo solo noi! Attenti a quei due! La Matera Arredamenti è mobili di qualità, consulenza ed emozioni Progettazione, realizzazione su misura, assistenza tecnica, alta professionalità nei servizi Matera Arredamenti è in via Selva San Vito 23 alla terza